La mia vita non apprezzo La mia vita non apprezzata È possibile curare il loro bambino Ad accogliere l'appello è stato anche Luca Vagnini Che su richiesta della famiglia Mezzina Ha composto un inno alla vita del piccolo Che esprime rabbia e indignazione E che racconta la storia di Federico Immaginata con le sue stesse parole Questa canzone serve Non tanto a me Ma serve più che altro A raccogliere fondi A raccogliere tutto quello che ci si guadagna Per darli a Federico Alla sua famiglia E in particolare all'associazione Che non lavora solo per Federico Ma per altri bambini Il brano può essere ascoltato anche su Music Razer Il portale è scelto da Luca Per ampliare la raccolta fondi Mettendo in vendita i suoi oggetti Come i dischi La sua chitarra autografata O concerti a domicilio Il tutto acquistabile ancora per pochi giorni Fino al raggiungimento dell'obiettivo Prefissato di 2000 euro Che verranno interamente devoluti all'associazione Scadrà alle 11 di mattina del primo aprile Ma soprattutto mancano poco meno di 800 euro Quindi sarebbe una beffa Perché il crowdfunding proprio funziona in questa maniera Se si raggiunge l'obiettivo Tutti contenti Se non si raggiunge l'obiettivo anche solo per 100 euro Tutto il ricavato verrà redistribuito ai donatori Quindi all'associazione Una Speranza per Federico Non arriverebbe nulla E come ci spiega Luca Per poter contribuire è molto semplice Il primo passaggio da fare è quello di digitare Su Google Music Razer Una volta aperto il sito Ci si iscrive indicando nome, cognome ed email E poi una volta tornate alla home page Si digita Luca Vagnini nella barra di ricerca Si trovano una breve descrizione Un breve accenno della canzone Il video di presentazione E tutti i pacchetti Che sono a disposizione Per contribuire proprio a questa raccolta di crowdfunding Da 10 euro fino ad arrivare addirittura anche a mille Il piccolo messaggio che voglio dare è anche ai gestori di locali Che magari per quest'estate hanno intenzione di chiedermi di suonare E anche piccoli avvenimenti acustici eccetera Preferisco vivamente che compriate il concerto qui Con 350 euro Un concerto privato nel vostro locale Dove volete e quando volete Però preferisco che si faccia qui Che il mio vita Non apprezzo Oh 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 no Oh 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 Grazie a tutti